oggi video su questa nail art molto semplice da fare creata in cinque minuti adatta all'autunno perché ho realizzato con questi colori con un verde con un verde bottiglia ecco e qui ho utilizzato per la tecnica sponge un arancione e un marrone quindi diciamo proprio colori dell'autunno molto semplice appunto perché c'è semplicissima vi lascio al video ciao allora per iniziare ho steso questo verde bottiglia molto autunnale carino il 54 trust in fashion su tutte le dita tranne che sull'anulare invece sull'anulare ho appunto scelto questo arancio che è il 22 what do you think dove andrò a fare appunto il decoro floreale poi prendo il 52 out of my mind e lo passo su tutte le unghie dove ho passato il verde bottiglia che ha questo smalto con i riflessi verdi sul blu verde molto bello poi per la tecnica sponge uso questi due smalti questo questo marrone e questo arancio diciamo questo color pesca e prendo la mia spugnetta e vado a fare il solito passaggio quindi passo prima il color arancio lo passo bene e poi quello quello marrone e per finire sfumo il tutto quindi unifico due colori affinché venga una bella sfumatura sull'unghia poi vado a tamponare la mia spugnetta con i due colori sull'unghia in modo che venga una sfumatura omogenea poi con lo stesso verde che utilizzato per le altre vita vado a fare il decoro floreale che sono questi quattro petali all'inizio dell'unghia proprio dove c'è il giro cuticole ne ne faccio quattro e diciamo molto semplice perché non c'è nessun'altra tecnica da utilizzare facile insomma per tutte non c'è nessuno e niente ragazzi l'anelarte è terminata se volete potete fare lo stesso decoro sulle altre dita io l'ho fatto con questo giallino e niente poi applicate un top coat e l'anelarte è terminata spero che vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video ciao